I carabinieri della stazione di Scilla hanno eseguito un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, imponendo all'indagato una distanza minima di 500 metri. Il provvedimento riguarda un uomo della zona accusato di atti persecutori nei confronti di un 54enne di Reggio Calabria. La vicenda è iniziata la scorsa estate, quando l'indagato avrebbe scoperto una relazione extraconiugale tra la moglie e il suo amante. Da quel momento, secondo le denunce, l'uomo avrebbe perseguitato la vittima con minacce, aggressioni fisiche e atti vessatori, al punto da costringerla a cambiare abitudini di vita e temere persino di recarsi al lavoro. Esasperato, il 54enne ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri verso la fine dell'estate. Le indagini, supportate da testimonianze e prove raccolte, hanno portato la procura regina a richiedere una misura cautelare. Il tribunale ha così disposto il divieto di avvicinamento per proteggere la vittima e prevenire ulteriori episodi persecutori.